Una bomba esplosa questa mattina a Roseto. L'ordigno è stato posizionato nella notte a ridosso di una pizzeria nel quartiere Borsacchio e qualche minuto prima delle quattro è esploso devastando il locale al pian terreno e danneggiando anche l'appartamento sopra la pizzeria. Un fortissimo boato nel cuore della notte e questo ciò che hanno riferito i residenti della zona nord di Roseto. La bomba, probabilmente artigianale, era posta vicino alla cucina a pochi centimetri dalla porta del locale che al momento della deflagrazione era completamente vuota. Nessun ferito quindi ma solo danni al fabbricato. Sull'episodio ora indagano i carabinieri di Giulianova. Le indagini intendono scoprire chi ha costruito e posizionato l'ordigno e perché. La pizzeria è proprietà di tre ragazzi di Roseto.